Queste iniziative sono importanti perché contribuiscono alla diffusione della cultura digitale e oggi c'è bisogno di cultura digitale per i cittadini grazie alle nuove tecnologie, infatti essi possono avere accesso a delle informazioni che consentono per esempio loro di pianificare meglio la propria esistenza, perché se pensiamo ad esempio ai dati giuridici, ai cosiddetti legal open data o pensiamo agli open government data, l'accesso a questo genere di informazioni consente ai cittadini di pianificare meglio le proprie strategie operative, consente alle aziende, alle imprese di operare in un quadro normativo noto e ex ante, quindi riconducibile a conseguenze apprezzate o indesiderate e di conseguenza pianificare meglio la propria attività in vista del conseguimento di maggiori profitti, maggiori benefici di carattere pratico e via dicendo.